allora oggi al nostro hot corner qui a milano sono molto contento di avere una delle miglior attrici in italia oggi ma come chi è Elena Lietti che sei tu come stai bene bene sei d'accordo la mia affermazione no non puoi essere d'accordo no però è un bel momento Elena sì sì un bel momento ti abbiamo visto avete amata molto nel miracolo ti abbiamo amata in Anna quest'anno e poi adesso questo Nanni Moretti dopo Care contaci un po' sul set comandata con Nanni Moretti è un set molto insomma una bella macchina da guerra molto serio però concentrato silenzioso tutte cose non ovvie un po' di soggezione può essere sì io non ho avvertito quella soggezione sicuramente quando ho fatto i provini con lui poi piano piano si è sciolto il rapporto si è diventato più rilassato quindi meno soggezione certo sempre la necessità di sintonizzarsi un po' sul suo modo di lavorare di vedere la recitazione quindi grandi autori certo e Cannes anche se è passata raccontaci vogliamo sapere qualcosa di Cannes è stata una bellissima emozione io ero molto spensierata per la verità non preoccupata ma sono goduta è stato un lavoro prepararsi perché insomma non ha che può andare proprio così metto la prima cosa che trovo nell'armadio però una volta preparate create le condizioni per andarci è stato molto divertente è stato bello condividere con gli altri essere lì veniamo da un periodo in cui la condivisione vederlo in sala poi vederlo in sala vederlo in mezzo alla gente è stato è stato bello era c'era sempre una percentuale così di straniamento perché stare lì in mezzo a tante persone a tratti dicevi è possibile siamo sicuri che va bene però un'altra vita possibile ma che effetto da fare di stare in sala e vedere invece il film e sentire anche le reazioni del pubblico è stata già visto sì ho visto una proiezione fatta per il cast proprio una settimana prima del di Cannes è stato bellissimo l'affetto che hanno che il pubblico ha mostrato a nanni ha dimostrato a nanni a questa prima ancora del film l'hanno accolto a prescindere e noi eravamo un po su cosa beneficiavamo un po di questa cosa e poi loro i moretti lo hanno amato anche prima quasi dell'italia se ci pensi invece che effetto fatto la prima volta che l'hai visto proprio invece la primissima volta beh la primissima volta è stata un po condizionata dall'inevitabile giudizio su se stessi perché lì come sei tu sei critica sì 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 sono critica sì poi quando mi sono tolta il pensiero del del mio lavoro allora mi godo mi lascio andare infatti la seconda visione a canna è stata anche la più per me la più partecipe emotivamente perché ero libera da da quelle paranoie di giudizio esatto anche perché poi ti becchia anche le cose belle di questo lavoro certo se ti ho curioso anche di sapere del tuo rapporto con niccolò maniti perché siete riusciti a fare due cose molto belle anna soprattutto che mi è piaciuto tanto sì ma insomma parliamo mi viene sempre da dire che parliamo un po la stessa lingua con niccolò abbiamo dei gusti evidentemente affini per cui quando mi ha proposto ma voi prima del miracolo vi conoscevate già no 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 però quando mi ha proposto il personaggio di sole pietro marchi nel senso che ho fatto lo provino per il personaggio di sole pietro marchi evidentemente lo dico adesso con sono di poi ripensandoci evidentemente la mia proposta per quel personaggio fatta durante i provini era molto vicina a come lui a come lui vedeva quella per questo che deduco oggi che abbiamo a me a me così forse presuntuosamente piace pensare abbiamo un'affinità che ci porta a partecipare a collaborare nelle creazioni per capirci a capirci a capirci se tu hai fatto un percorso lungo e fatto tanto teatro poi sei arrivata al cinema televisione adesso è un po anche un momento di raccolta possiamo dirlo perché uscirà siccità di paolo verzi usciranno film anche di paolo che effetto ti fa adesso cioè ti guardi indietro dice beh no non faccio tanti bilanci per la verità no no non sei una che fa il punto della situazione avanti no 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 mi piace pensare alla prossima cosa adesso che cosa ci sarà che cosa sono mai piazzato nel giro di popolo e chiamano reti virzi genovese no sono molto contenta sono molto molto contenta di servire poi dei bei racconti perché anzitutto autori sono delle belle storie dei bei racconti dei personaggi ma di siccità puoi dire qualcosa no o paulino dopo appena finisce paulino ti bacchetta no lo cancelliamo però non vedo l'ora di vederlo questo posso dirlo ah beh già questa c'hai incuriosita ma chi è il tuo mito la tua attrice di riferimento quella che vedi dice se facesse anche metà delle cose che ha fatto lei va bene sarò ovvia lista no 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 ce l'hai ma io non c'è non riesco ancora ad affrancarmi dal mito di mary strip poi c'è io vado proprio guardo proprio ai del resto insomma è giusto guardare in altissimissimo poi non fa quello che può perché ma qual è la strip che ti piace di più tu un po tutte cioè mi piace l'umanità non so c'è qualcosa di molto umano che attraversa un po tutto quello che fa che sempre così incanta a una grazia e anche un'ironia meravigliosa c'è ruolo un film ma no potrei dirti veramente tanti tanti ma sei più tipo anni 80 sì sono super no ecco c'è una scena che io amo fondemente che è quella di the burning heart è il film affari di cuore con jack nicholson la scena in cui scopre il tradimento uscendo dalla doccia con i capelli così perché il vapore gliela gonfiati lei era appena stata la parrucchiere mannaggia lui e scopre che lui la tradisce con una tremenda tra l'altro ed è ecco quella leggerezza lì che mette nelle cose la amo fondamente che tra l'altro affari di cuore non è un film citatissimo ma è un bellissimo è un bellissimo film con una straordinaria colonna sonora di carly simon carly simon bellissimo poi jack nichols e mary strip diciamo sono due cioè come vede l'incontro di tennis proprio al top al top certo beh poi innamorarsi con robert de nero parlando quindi sei sulla strada o se molto anni 80 si sono molto anni 80 per vabbè vabbè poi negli anni 80 praticamente non svegliato nulla negli ultimi anni l'abbiamo vista anche però con una cosa un po più leggera se se si fosse colpito di più no però il fatto anche con mamma mia per esempio certo certo è rivelato veramente fare tutto quindi non è quasi umana no no non sono convinta eppure riesce a risultare umana si si senti ti faccio un gioco che facciamo sempre qui al nostro hot corner stasera ti chiamano di partire per un'isola deserta puoi mettere un solo film in valigia uno solo altrimenti sei squalificata non si sa da cosa ma sei squalificata guarda posso dire perché c'è stato un lungo periodo in cui avrei messo non so perché la febbre del sabato sera però ti giuro quella new york 1977 che l'anno in cui sono nata aveva qualcosa che chimicamente mi suonami risuonava e quindi avrei messo john travolta avrebbe sotto al giorno quello quello lì la metropolitana le passeggiate in mezzo alla gente ecco adesso non lo so dovrei interrocare però adesso in questo preciso momento non saprei dirti che poi in realtà la febbre del sabato sera è stata sempre venduta no come un grande film di svago no è un film terribile tristissimo la riflessione sulla società no su come poi era perfida poi la lotta sì 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 è un film triste dove si balla tantissimo e questa combinazione è rimasto si balla tantissimo ma si è dimenticato invece no era anche profondamente triste sa di sono invece i registi che ami più di altri che tu da spettatrice guardi c'è un film di quel regista lì anche se fa schifo comunque tutto lo vedi perché ti piace ma potrei dirti almodovar almodovar comunque lo vedi trovo sempre qualcosa di meraviglioso però però non è l'unico ora sì in questo momento mi viene da dirti lui se più europea o tu americana cioè come gusto da spettatrice sono sicuramente americana fino a un certo punto insomma gli ultimi anni non lo so me forse meno forse mi sono un po persa io quello che che è venuto fuori dagli stati uniti perché poi la l'essere mamma di un bambino piccolo ti porta a vedere Pixar, Dreamworks, Shrek 38 volte cioè io ho visto adesso Tarantino Once Upon a Time in Hollywood l'ho visto ora ma mi è piaciuto da morire tantissimo è una delle cose più belle di Tarantino tantissimo ma anch'io lo penso io sono una grande amante di Jackie Brown uguale anche io Jackie Brown è uno dei film più belli di Tarantino e adesso ho amato molto molto questo e vedi perché a me piace meno invece quando Tarantino fa il si gioca e infatti si anche a me invece io ho trovato Brad Pitt questo si di Caprio anche e poi c'è questa visione di Sharon Tate così naif romantica che io non credo fosse così ma chi se ne frega però il cinema è quello l'epica del cinema è proprio quella di vedi proprio il gusto dell'appassionato di cinema del bambino cioè Tarantino che si ricorda quando bambino si è bellissima vedeva vedeva Hollywood e la immaginava un po' così io mi sono fatta questo film no no è vero vero a me è piaciuto tantissimo anche la scena finale insomma il sogno anche un po' anche l'idea un po' leoniana che l'epica è più grande della vita quello che sogni tu poi alla fine che effettivamente poi il motivo per cui per cui abbiamo il cinema e ti faccio un altro gioco perché noi vai ci piace giocare allora inviti quattro persone a una cena cucini tu quello che vuoi ok però puoi invitare queste quattro persone possono essere chiunque da Napoleone fino a Tarantino morti vivi chiunque Obama 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 adesso cosa gli chiedi a Obama adesso a Obama gli vorrei chiedere perché cioè ieri l'altro ieri ha detto delle cose abbastanza criptiche si dico Obama e gli dici ma con gli otto anni lì Obama esattamente spiegami bene cosa intendevi gli chiederei perché ha fatto delle previsioni tra il catastrofico e lo speranzoso ah si che vorrei vabbè quindi Obama capotavola che ci spiega il futuro ci spiega il futuro poi aiuto Robert De Niro Robert De Niro perché il terzo imitato sarebbe mia madre che è innamorata di Robert De Niro da sempre e quindi coronerei il sogno di farla incontrare e la quarta però devi mettere per forza lei allora mia madre no ah lei chi? Meryl Meryl si no preferisco tenerla forse non immaginario va bene va bene va bene ci sta quindi insieme a De Niro De Niro De Niro esatto e poi beh De Niro Obama già si conoscono quindi si e poi aspetta chi potrei invitare aiuto forse un cantante qualcuno che faccia musica no aiutami dammi una ma tipo chi ti piace dammi una zona di Michael Stipe un no Cobain ehm no non sai che è Cobain però Cobain con Obama eh non so tua madre che dice Cobain tua madre Cobain però potrebbe magari dare qualche consiglio dice perché dove hai sbagliato va bene car Cobain mettiamo così creiamo del caos però Cobain Obama creiamo del caos a tavola bellissima ti faccio l'ultima domanda che visto che siamo qui a Fargans in Fabula che è una boutique artistica che profumo associa al set di tre piani di Nani Moveti c'è un profumo c'è un qualcosa che ti sei portata via? mi profumo la vernice sicuramente sì sì perché il set era questa casa abbiamo avuto la fortuna di girare sempre nella stessa location quasi sempre ho girato pochissime cose io fuori da quella location questa palazzina Prati in una via in via Montanelli ancora quando ci passo dico casa ciao casa adesso col bonus 110 è stata tutta arrivata ed era stata rimessa in rifatto insomma dipinta tinteggiata costante l'ordore di vernice costante dentro si è rimasta nelle narici la vernice sì sì senti prima di chiudere volevo chiederti ma tu leggi le critiche o no? leggi le recensioni si vai a cercare google i allenalietti vediamo cosa no però leggo le recensioni delle cose che faccio sì sì e? e ascolti oppure ti arrabbi oppure non te ne importa più no mi dispiace quando leggo cose l'unica cosa quando leggo ci sono magari le recensioni un pochino più un po' meno che riguardano un po' meno il film ah ok quando ci sono i voli pindarici è un po' più altre cose che forse hanno più a che fare con chi scrive del film esatto quelle mi sembra sempre delle occasioni perdute ecco perché poi alla fine in realtà il film è sempre una proiezione di chi vede cioè se io vado al cinema per esempio tu prima parlavi no? dei bambini e hai dei figli e c'è un film con un ruolo di madre o di padre ovviamente condizionerà di più la visione che uno che non ne ha per esempio io questa cosa l'ho scoperto da quando sono padre cioè quando vedo un film appare un bambino subito mi colpisce a livello emozionale in una maniera che non succedeva prima non era prima cioè Boyhood se te lo ricordi quello di Linklater per me è un capolavoro ma perché ero proprio in quel momento lì sì sì altri con cui parlavo dicevano ma a me è preso bambino che cresce sì sì e lo capisco però quindi alla fine no ma infatti ma il punto di vista ci sta è comprensibile più quello che ci sta un po' meno forse quando appunto ne approfitti quando diventano i tifoni per fare la spiega esatto e ci interessa anche meno e ci interessa anche meno però io penso che la critica poi sia sì sì può essere costruttiva sia assolutamente fondamentale nell'ecosistema del nostro lavoro è cruciale eh quando è fatta bene è illuminante quindi noi non criticheremo mai però Elena Lietti no mai mai no 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 a prescindere come Mary Street a prescindere sì vabbè sbassa direbbe un mio amico o tua madre un po' bene esatto Elena Lietti a Locone ciao ciao grazie 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 a tutti.